ancora buon sabato ben trovati da firenze smart mauro ciutini in studio c'è una coda per incidente sulla variante di valico un chilometro con tendenza all'aumento tra firenzuola e aglio in direzione firenze rimaniamo sulla 1 tra firenze sud incisa reggello direzione roma materiali sulla carreggiata materiali dispersi anche sulla 11 tra firenze peretola il bivio a 11 firenze nord direzione pisa ci spostiamo adesso sulla strada di grande comunicazione pedoni per lavori sulla carreggiata tra ginestra fiorentina e montolupo fiorentino in direzione di livorno passiamo ai treni il 41 28 roma pisa attualmente viaggia con 34 minuti di ritardo per un guasto tecnico è tutto grazie a regione toscana città metropolitana comune di firenze grazie a tutti